Buonasera a tutti, cosa c'è martedì ormai da quattro anni e passa? C'è giovani pianticelle, viola, crescono l'unico prodotto televisivo italiano di una televisione, canale 96, che segue tutti i campionati giovanili di una squadra professionistica ACF Serentina, che ovviamente ringrazio. E allora andiamo a vedere che cosa è successo. Ovviamente Primavera, che è in riposo, tornerà ai primi di gennaio, ci sarà l'ultima amichevole stabilita da ACF Serentina, ci sarà un match al Franchi tra Fiorentina A e Fiorentina Primavera, poi ricominceranno i campionati. Prosegue il campionato Ander 18, e allora Sampdoria-Fiorentina finisce 0-0. Sampdoria con Zorzi, Mosca, Garrone, Sciortino rilevato da Gallucci, Muratore, Valisena, Paccagnini, Bordin, Ntanda, Poerio, al suo posto Conte, Porzi, allenatore Rizzolo. Fiorentina con Tognetti, Maggini, Pitti, al suo posto Fragnelli, Santa Ramacchia, Comuzzo, entra Dama per il finale dove la Fiorentina stava accelerando per cercare di vincere, Elia, italiano, al suo posto entra Spaggiari, Arden, rilevato da Mignani, Mendoza, cambio pari ruolo con Ofomà, Ievo, Libraschi, al suo posto, Diarrà, a disposizione rimangono Caroti, Dell'Ernia, Sicchi, agli ordini di mister Papalato, ha arbitrato Leoni da Pisa. Dunque finisce con il classico pareggio ad occhiali 0-0 il match tra Sampdoria e Fiorentina, l'insegna del classicissimo. Un punto per uno non fa male a nessuno, ma non è verità perché, ricordando che era un testa a coda Fiorentina prima, Sampdoria ultima, dalla quale la Fiorentina avrebbe dovuto trarre gli auspici per portare a casa una vittoria e aumentare il divario sulla Roma, che invece rimane di più 3-24-21 dopo il pareggio pirotecnico dei gialloreussi col Genoa, finisce 3-3, occasione persa dai ragazzi di Papalato che hanno fatto sì il match con tutti i cambi possibili contro i due Doriani, ma non sono mai riusciti a trovare l'ospedale giusto per sfondare. Girone A, risultati. Lazio Empoli 0-1 ha segnato Elbiate. Sassuolo Lecce 3-0. Visto che gioca il Sassuolo, di cui Emiliano Bicicca è l'allenatore non dell'Under 18, ma credo che collaborino per la primavera, Sassuolo Lecce 3-0. Moriano, Ocogé, Rigo. Bologna-Napoli 4-0. Genoa-Roma, come detto, 3-3. 0-0 tra Fiorentina e Sampdoria. Riposa il Cesena. Classifica del girone A. Fiorentina capolista, come detto, 24. Roma 21, Lecce 19, 17 il Bologna, 16 l'Empoli. A seguire 15 il Sassuolo, 15 la Lazio, 13 il Genoa, 11 il Cesena, 8 Napoli, 3 la Sampdoria. Passiamo all'Under 17. Vittoria importante Viola al Sassuolo Sports Center. Gli Under 17 rimiste Galloppa battono il Sassuolo, 2-1 in trasferta. Sassuolo con Viganò, tra i pali. Benvenuti Barrani, Marazzita, Macchioni, Piccolo, Frangella. Seminari, Petito, Cardascio, Lattanzi, allenatore Pavan. Fiorentina con Vannucchi, Ciraudo, Damato, rilevato da Conti. Trapani, Sadotti, al suo posto entra Lucchesi. Cuomo, Fortini, Vascotti, Caprini, rilevato nella ripresa da Maiorana. Puzzoli, al suo posto entra Pedicanò, Rubino, a disposizione in panca viola. Dolfi, Coaudio, Eldib, Bertolini, agli ordini di mister Galoppa. ha arbitrato il signor Poggi di Forlì. Vantaggio viola di Rubino al venticinquesimo. Petito pareggia al cinquantesimo, quinto del secondo tempo. Caprini la risolve ancora una volta. Assegno l'ultimo della truppa viola arrivato quest'estate. Caprini la decide al minuto 69. Genoa, Parma, 1-2. Juventus, Bologna, 1-1. Napoli, Modena, 2-1. Pisa, Torino, 1-0. Sassuolo, Fiorentina, 1-2. Spezza, Sampdoria, 0-2. Ha riposato l'Empoli. Campionato Under 15 e Under 16 sono fermi. Allora andiamo solo a ricordarvi la classifica degli Under 16. Girone C, Fiorentina che comanda 25, più 5 sull'Empoli. Due Toscane in testa. 20 punti per l'Empoli. Sassuolo addirittura 15, meno 10 dalla Fiorentina. Napoli 13, Ternana 12, Bologna 11 insieme al Pisa. 8 il Perugia, 6 il Modena, 5 l'Ascoli. Pare teticamente, fermo anche l'Under 15, ci rivedremo a gennaio. Bologna 18, Modena 17, Sassuolo 17. Fiorentina è ripresa 11. Fiorentina, ricordo, giovanissima squadra rifatta dall'A alla Z. Per Nicola Maggera tanto lavoro, molta sfortuna. Nel ginone 5 punti persi per mera sfortuna. Spesso e volentieri. Fiorentina 11, Napoli 8, Ternana 8, Pisa 8, Ascoli 7, Perugia 5. Andiamo ai campionati dei più piccini, Under 14. Scararesi, Aquila, Montevarchi 1 a 1. Aquila, Montevarchi B, Siena 0 a 1. Orbia, Pisa 2 a 1. Città di Pontendera, Empoli 0 a 5. La Fiorentina esagera con la Lucchese 11 a 0. Vi riporto i gol che ho trovato su un sito, sperando che siano giuste le comunicazioni giuste. Bellacci, Nguamu, 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 Bellacci, Bellacci, Sarnataro, Doppietta di Farnese. Queste sono le uniche notizie che abbiamo trovato. La classifica vede Empoli 30, Fiorentina 25, Olbia 18, Aquila, Montevarchi 15, Pisa, Città di Pontendera 14, Siena 11, Cararese 10, Lucchese 3, Aquila, Montevarchi, squadra B, 1 punto. Passiamo al campionato Under 13. Pontendera, Cararese 1 a 0. Empoli B, Fiorentina B, 4 a 3. Pisa, Lucchese B, 8 a 1. Lucchese, Pisa B, 2 a 3. Fiorentina A, Empoli A, 0 a 2. I due gol di Olivieri e Crispino. Classifica Empoli 24, Pisa 24, Fiorentina B, interscambiabile con la Fiorentina A. Fiorentina B, 18. Fiorentina A, 15, compagnia del Pontedera. Empoli B, 14. Pisa B, 13. Cararese 10 punti. Montevarchi 6, Lucchese 3. Chiude la Lucchese, squadra B, 1 punto solo. Dunque, ancora in croce al giovanile giovanile con l'Empoli. Ancora risultati purtroppo negativi. Sono belli questi scontri tra gli azzurri e i viola. A livello dei più piccini l'Empoli si dimostra squadra piuttosto e più fornita di giovani rampanti. Per cui, va bene così, dalla redazione del canale 96, Stefano Ballerini che vi parla, Enrico Milano in regia a supporto, Paolo Caselli che vi saluta non è qui con me. Per questa settimana, martedì, i giovani pianticelli e i viola crescono. Uno dei nostri prodotti in assoluta esclusiva va agli archivi. Si gioca ancora il prossimo weekend e poi saranno vacanze di Natale e Capodanno. Per tutti. Viva la Fiorentina. Viva il football. Viva Canale 96. Grazie Fiorentina e volendo anche, grazie Empoli. Auguri a tutte le squadre toscane, Pisa compreso. È tutto. La linea torna alla nostra regia, alla programmazione del canale 96 da Stefano Ballerini. Vi abbraccio, vi voglio bene. Forza Viola. Lino allo studio. Grazie.